Ebbene carissimi amici, sono ancora qui sul mio canale YouTube insieme a tutti voi, perché quest'oggi vado per l'ennesima volta, ennesima, 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 a commentare le vincite dei miei software. E la musica non cambia cari amici, non cambia, perché vi parlo ancora del software Lotto2, un software la cui vincita io vi ho portato sul mio canale, ve l'ho portata pochissimo tempo fa, e poi lo andiamo a vedere. E allora io dico che bisogna essere pronti, bisogna essere presenti quando presento un software, un metodo, una previsione a vincita venuta, subito bisogna prenderla, perché poi vi ritrovate senza vincita in tasca. Perché quando un metodo, un software, stanno pagando alla grande, si dice il ferro si batte quando è caldo. Non si sta a guardare alla finestra. Il software Lotto2 ancora una volta paga, paga, al primo colpo di gioco. 28-34 Genova al primo colpo di gioco. Previsione elaborata venerdì 7 di giugno. Il software ad ogni estrazione elabora la previsione, si gioca per soli due colpi, cari amici. Udite, udite, due colpi di gioco. Questa è la seconda vincita a colpo secco in tre estrazioni consecutive. Voglio che in questo momento vi mettete a meditare, vi mettete a riflettere cosa vuol dire avere un prodotto presentato nel 2019 che ad oggi vi dà due ambi in tre estrazioni consecutive. E poi lo andiamo a vedere. Il software consiglia del 28 Genova-Napoli. A parte l'ambata, scandalosa. Scandalosa. Perché non solo esce dove è uscito l'ambosecco su Genova, esce anche sull'altra ruota. Questo vi fa capire quanto è potente questo programma. Anche giocando solo l'ambata o l'estratto determinato nel giro di due colpi potete realizzare delle cose bellissime, bellissime. 28 a Genova, primo colpo, 28 a Napoli, primo colpo, cioè l'ambata esce in tutte e due le ruote. Da follia. Estratto determinato 28 Genova in quinta posizione, quindi ci andiamo a beccare anche in posizione. Oltre a tutti gli ambi in terzina vinti. E il 28-34, cioè il secondo Ambo, vinto a Genova al primo colpo. Che programma è questo, cari amici, impostate nei due colpi di gioco? Perché io l'ho impostato in questa maniera. Poi ovviamente chi vuole le previsioni se le può impostare anche per più colpi e nel caso non dovesse uscire al secondo colpo uno può dire imposto il software e me la porto avanti. Per sei, per sette, per nove. Ma lo scopo del programma è sempre stato quello di vincere rapido. E il software 2 ci porta un'altra vincita. Perché sabato 8, l'ultima estrazione avvenuta, ce ne va a beccare un altro Ambo a colpo. E quando io vi ho detto, quando io vi ho detto, era il 4 di giugno, martedì, il software elaborava la previsione. Vi ho portato il video sul mio canale quando giovedì 6 il software ha vinto, ha pagato un'altra previsione da urlo sulle ruote di Palermo-Torino, centrando di nuovo un doppio estratto al primo colpo sia su Palermo sia su Torino. Torino, scusate, quinta posizione e su Palermo l'Ambbo 39,90, sempre al primo colpo. Quindi cosa vuol dire? Che due previsioni hanno fatto proprio la fotocopia perfetta. Perché guardatevi l'estito di questa giocata, il 6 di giugno, vinte il 6 di giugno. Al 7 di giugno noi avevamo l'altra previsione. E c'è la fotocopia perfetta. Doppio estratto, estratto e terminato e Ambo a colpo. Cosa vuol dire questo che ci portiamo a casa? Due Ambi nel giro di tre colpi. 6, 7, 8 giugno. Tre estrazioni, un Ambo vinto al 6 giugno 39,90 Palermo, un Ambo vinto all'8 di giugno 28,34 Genova. Questi, cari amici, sono gli esiti. Non ce n'è per nessuno. Perché i miei prodotti sono imbattibili. Sono imbattibili. Provate in giro da chiunque. Non arriveranno mai a questi livelli. Mai e poi mai. Perché un prodotto presentato nel 2019 non può dare questi esiti. non li può dare. Un prodotto presentato nel 2019 non può dare queste bombe. C'è qualcosa. C'è qualcosa sotto. Ci sono alla base dei calcoli. È una mia ricerca personale dove non arriverà mai nessuno. Perché far vincere un programma, un metodo dopo 5, 6, 7, 10 anni. Pensate chi ha acquistato questo programma nel 2019. 20, 21, 22, 23, 24, 5 anni. E ad oggi si va a realizzare ancora questi esiti. Cioè uno si mette veramente, si mette le mani nei capelli. Due Ambi in tre colpi. Veramente un esto fantastico. Immaginate che previsioni potete avere con questo programma. Ma togliamo gli Ambi. Ma le Ambate. Le Ambate, le Ambate in posizione. Il gioco dell'estratto in due colpi è molto redditizio. In due colpi. Sono due ruote, ma sono due colpi. E le due ultime previsioni hanno dato il doppio estratto sulle due ruote più la posizione. Quindi, cari amici, io vi dico ancora una volta, attenzione. Perché questo è un software che va acquisito. Questo va acquisito. Perché chi non l'ha acquisito oggi non si trova 470 euro in tasca. 4,60. Oggi non si ritrova 460 euro in tasca. è ovvio che non tutte le previsioni andranno a pagare in questo modo. Ma è ovvio anche che quello che vi dico sempre, costanza, fiducia, costanza, fiducia, si va a vincere. Si va a vincere. Si raccolgono tanti frutti. Quindi potete contattarmi via WhatsApp al 348 75 47 715 per acquisire o il singolo software 2 o chi fosse interessato al pacchetto 10 software completo lo può fare. Perché c'è una bella promozione. Quindi mi raccomando, cari amici, perché stiamo andando fortissimo per non parlare del 90 di Cagliari. Del 90 di Cagliari che è stato stravinto da tantissimi di voi, caricato bene 10, 20, 8, 7, 5. È stata una vincita veramente incredibile perché chi segue i miei consigli, io mi vengo ad esporre sul canale, chi segue i miei consigli, poi vai ad incassare. Ma con la costanza. Quindi cari amici, mi raccomando al software 2 perché veramente ha pagato due vincite eclatanti. Eclatanti. 28 34 a Genova e 39 90 Palermo. Due vincite eclatanti al primo colpo di gioco. Quindi vi attendo in privato via WhatsApp per chi volesse acquisire questo favoloso programma che non mancherà di dare ancora altre vincite. Per adesso un saluto a tutti.